Signori e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine oramai a voi ben noto della mia libreria. Allora cari signori questa sera torniamo a parlare di aerei, aerei tedeschi per la precisione, nella fattispecie di questo, il cacciacarri Hanschel HS129. Eccolo qui, la fonte è questa rivista, il bimestrale special di maggio-giugno 2009 dei grandi aerei storici, supplemento ai grandi aerei della storia. L'Hanschel HS129, il cacciacarri della Luftwaffe. Un piccolo bimotore pesantemente corazzato, piuttosto sottopotenziato e decisamente molto armato che combatte la sua guerra essenzialmente sul fronte orientale contro le formazioni dei carri armati sovietici. Non si trovò mai un'arma risolutiva aerea contro i T-34 tedeschi e le provarono tutte. Lo Hanschel montò calibri dai 30 ai 75 mm con risultati decisamente altalenanti, anche perché immaginatevi che cosa vuol dire sparare da un aereo con un 75 mm. Non è certo una passeggiata di salute, anche perché l'Hanschel HS129 non è che fosse un aereo propriamente perfetto, era pesante, piuttosto potenziato, di pilotaggio non propriamente esaltante perché i piloti storcevano un po' la bocca quando avevano a che fare con lui, soprattutto se armato con il cannone da 75 mm che rendeva il pilotaggio piuttosto pesante, piuttosto difficile. Insomma non era un aereo estremamente entusiasmante, era il più piccolo monoposto bimotore da combattimento realizzato in Germania, talmente piccolo, talmente stretto che il collimatore, il mirino, erano stati costretti a sistemarlo all'esterno, come testimoniano queste due foto. Vedete? Il collimatore, il mirino, il mirino Revi è sistemato fuori dall'abitacolo, in posizione esterna, perché all'interno non c'era assolutamente posto per mettercelo. E vi lascio immaginare le condizioni in cui i piloti, poveretti, dovevano ragionare e mirare. Insomma un aereo d'assalto, un aereo leggero d'assalto, ideato e ottimizzato per l'attacco anticarro, conteneva per esempio addirittura, come qui in questo caso, fantasiosi armamenti in fusoliera, fantasiosi razzi sparanti all'indietro, azionati da un rilevatore di campo magnetico. Quando si passava sopra una formazione di carri armati, l'antenna segnalava le modifiche del campo elettromagnetico e i razzi partivano nella speranza di centrare qualche bersaglio a terra. E ho detto speranza. chiudiamo qui. Come vedete la più famosa delle installazioni delle armi dello Henschel HS129 è indubbiamente questa. Guardate qua, quella con il cannone da 75 mm, un pezzo anticarro da 75 mm. Questo è il profilo di un HS129 della quattordicesima Panzerschlachter 9 sul fronte russo nell'inverno 44-45. Insomma un aereo pesante, sottopotenziato, a volte anche eccessivamente armato. Ricordiamo che era fatto praticamente con pezzi di scarto, i motori erano di produzione francese, parte della produzione fu spostata in Francia. Insomma vi lascio immaginare la qualità della costruzione di questo aereo che fu affidato anche ai romeni come testimoni a questo profilo. Insomma un aereo non spettacolare, non brillante, non eccessivamente amato dai piloti, molto temuto dagli avversari e che nelle condizioni giuste era in grado di fare veramente male al nemico. Ma, ripeto, doveva andare tutto bene. Doveva avere l'angolo di mela giusta, dovevi essere poco disturbato dalla contraerea, dovevi stare attento al puntamento e a tutto quanto così e diciamo che spesso e volentieri con un paio di colpi da 75 mm un carro armato russo era tranquillamente fatto fuori. Ma il problema era sempre il solito, troppo poco, troppo tardi, perché ben altro che due Staffel di HS 129 avrebbero dovuto attaccare gli aerei dell'armata rossa e affrontare anche gli Sturmovik. In realtà si trattò di poche squadrini a usare questo pesante e complicato aereo nel carnaio della seconda guerra mondiale tra le sabbie d'Africa e il gelo di Russia. Insomma un aereo che ha fatto la sua storia, non un aereo eccezionale, un aereo spettacolare per armamento e per impiego, ma oggettivamente poco più che mediocre per prestazioni ed efficienza a causa della costruzione quantomeno arrangiata. Avrebbe avuto bisogno di motori decisamente più potenti, di ali un po' più grandi, di una sistemazione dell'avionica migliore. Ma ahimè non si poteva fare di più. Già all'epoca quando il 129 è entrato in servizio la Germania mostrava praticamente e pericolosamente la corda su cui doveva muoversi. Insomma già all'epoca in cui il 129 entrò in servizio l'impianto costruttivo, gli impianti costruttivi dedicati alle aeronautiche avevano dei grossi problemi a proporre nuovi tipi di aerei per i continui bombardamenti e per la carenza di materie prime. Insomma HS 129, Hanschel 129, un grande aereo d'assalto, non un puro sangue, non un fulmine di guerra, non una spietata aquila che picchia sulla preda facendone strazio, ma un onesto aereo d'assalto al suolo che compì azioni spettacolari, che riuscì a colpire l'immaginario collettivo soprattutto con il mitologico cannone da 75 e che ci racconta come dire la storia di un teatro di guerra, quello orientale, estremamente pesante, estremamente brutto, sporco e cattivo se vogliamo. Insomma signori, se volete saperne qualcosa di più, l'ideale potrebbe esservi procurare questa monografia edita da Aerei nella storia nel maggio-giugno 2009. È una lettura interessante, un aereo poco noto ai più, più che altro famoso per le spettacolari installazioni d'arma che lo resero una sorta di giocattolone per piloti un po' fissati, però era un buon aereo. Se tutto andava bene volava anche discretamente, ma ahimè i motori delle bizze e il peso e la pessima qualità dell'avionica e della cellula, lo costrinsero ad una guerra, se vogliamo, di seconda schiera in cui non poté mai dire effettivamente la sua. Insomma, Henschel HS 129, il cacciacarri, un aereo che poteva essere ottimo ma che fu semplicemente buono, un aereo non facilissimo da pilotare ma che riuscì a ottenere successi non indifferenti contro i carri sovietici. Insomma, una vicenda da conoscere, una vicenda da studiare, un aereo, lo Henschel HS 129, da ricordare per far vedere chi era, per far vedere cos'era, per far vedere chi è, se vogliamo, l'antenato dei moderni aerei d'assalto a reazione tipo l'OA10. Insomma, cari signori, Henschel HS 129, un onesto aereo da attacco al suolo che nel corso della sua lunga carriera non riuscì mai a fare il salto del fosso e migliorarsi, rimanendo un aereo poco più che mediocre, dotato di motori pessimi e con armamenti a volte troppo pesanti che non lo favorivano proprio in volo. Che vi posso dire? Come sempre, leggetelo, procuratevelo, interessatevi. La storia dell'HS 129 è una storia interessante. Sta a voi, cari signori, amici, nemici, vicini, allontani, eccetera, 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 prendere, leggere, farvi un'idea e capire quello che ho detto. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo e vi auguro, tanto per cambiare, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.